Per fare un ottimo pane fatto in casa, io seguo la ricetta della nonna, che si divide in tre fasi. Rinfresco del lievito madre, lievitazione del lievito e lievitazione dell'impasto. Bene, cominciamo. Per fare un buon pane, io faccio così. Rinfresco innanzitutto il mio lievito madre. Metto un po' di acqua fredda. Mescolo il lievito madre. Tanto fino a quanto è tutto sciolto. In una bacinella metto un po' di farina. Aggiungo il lievito madre sciolto in acqua. Mescolo tutto insieme. Per cinque minuti, fino ad avere una massa compatta. Come vedete in video. Riverso in barattolo. Chiudo. E lascio rinfrescare per dieci ore in un posto chiuso e buio. Ingredienti. 350 grammi lievito madre. Un bicchiere di acqua fredda. 200 grammi di farina 00. O semola di grano duro. Dopo il rinfresco, il nostro lievito madre si presenta così. Lievitato tre volte. Adesso procediamo con la fase 2. Lievitazione del lievito rinfrescato. Mettiamo in bacinella il lievito rinfrescato. Aggiungiamo l'acqua. Mescoliamo. Ed aggiungiamo man mano la farina. Continuando a mescolare. Per circa tre minuti. Fino a raggiungere queste bollicine sopra. Praticamente è una pastella. Ricopriamo con un tovagliolo. E riponiamo in un posto chiuso e buio. Per tutta la notte. Circa 12 ore. Ingredienti. 650 grammi lievito madre rinfrescato. Un bicchiere di acqua fredda. 150 grammi di farina 00. O semola di grano duro. Dopo la lievitazione durante la notte del nostro lievito madre. Ecco come si presenta il nostro preparato. E' aumentato di un terzo. E va benissimo. Adesso possiamo proseguire ad impastare la farina. Per fare il pane. Mettiamo la farina in una bacinella. E facciamo un buco al centro. Aggiungiamo il lievito madre lievitato. Mettiamo il sale. E cominciamo a mescolare. E l'acqua. Man mano però. Non tutte insieme. Continuando a mescolare. Questa procedura dura circa 7 minuti. Fino a quando. Vedete? L'impasto non si stacca dalla mano. Nel frattempo abbiamo preparato una teglia. E' messa la carta da forno. Mettiamo il nostro impasto in teglia. Chiudiamo con un coperchio. Andiamo a riporre in un luogo chiuso e buio. Tipo il nostro forno. Lasciate lievitare per 8 massimo 9 ore. Dopo 8 ore ecco come si presenta il nostro lievitato. Possiamo infornare. Accendiamo il forno a 250 gradi e lasciamo riscaldare. Sforniamo a 250 gradi per 20 minuti. Fino a raggiungere questo colorito. Abbassiamo il forno a 220 gradi e lasciamo cuocere per ulteriori 45 minuti. Sforniamo e ricopriamo con un panno da cucina. Lasciamo raffreddare completamente. Ingredienti. 2 kg di farina 00 o semola di grano duro. 900 g di lievito madre lavorato due volte. 1,300 ml di acqua molto calda. 2 cucchiai scarsi di sale. Una volta completamente fredde, togliamo le pagnotte dalle teglie ed eliminiamo la carta da cucina. Adesso facciamo la prova del 9. Tagliamo una pagnotta. Ed ecco il risultato. Un ottimo pane leggero, morbido, croccante e ben digeribile. Inutile dire il profumo che emana. Fate voi stessi la prova. Se gradite buchi più grandi, basta semplicemente farle evitare l'impasto del pane passaggio 3 più a lungo per circa 12 ore. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ciao!